Secondo appuntamento questa sera a San Cataldo della manifestazione Teatri di Pietra 2013, inserita nel calendario dell'estate sancataldese grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale, l'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo, la soprintendenza di Caltanissetta, il parco archeologico di Sabucina Capodarso e l'associazione Teatri di Pietra Sicilia, Capoantica Festival. In scena alle 21.30 al sito archeologico di Vasallaggi, la prima nazionale della rappresentazione Letterea Circe, di Andrea Di Falco e Manuel Giliberti, liberamente ispirata all'odissea di Omero, Omero Sitideroc e Walcott, e al saggio sopportacuore di Eva Cantarella, sul palco Vincenzo Crivello, Deborah Lentini e Davide Guidi, musiche di Antonio Di Pofio. Sto andando veramente alla grande, la gente sta rispondendo, questo significa che c'è veramente fame di cultura. Noi ce la stiamo mettendo tutta, io mi sto impegnando tantissimo in questa direzione, perché la cultura è essenziale per la crescita di un popolo, in questo momento difficile e particolare, è il punto di riferimento della nostra comunità. Noi vogliamo valorizzare al massimo questo sito del Vasallaggi, perché è un sito che merita e che può chiaramente metterci anche in un circuito, anche perché no turistico, anche di giornata, ma in ogni caso ci possiamo benissimo inserire a pieno titolo in un circuito di questo genere. Ma a parte tutto questo, ripeto, è un discorso di impegno amministrativo, di carattere culturale, che farà crescere senz'altro la nostra comunità. Si sta riscutendo lo stesso successo di pubblico dello scorso anno? Sì, infatti, anzi, forse ancora di più, perché nel primo giorno abbiamo avuto molte più presenze, quindi questo significa che c'è un coinvolgimento da parte della nostra realtà e questo ci fa ben sperare anche per il futuro.